E' bello a tutti ragazzi, oggi siamo qua in un nuovo video di Roblox Oggi giocheremo Roblox per i carabinieri Allora, prima di tutto mettiamo un vestito che vogliamo, tipo questo qui, va bene Lo mettiamo E poi andiamo a mettere le altre armature Intanto per intanto mettiamo la paletta Mettiamo Una delle manette Poi mettiamo la paletta Ok Poi mettiamo il cappello Il cappello dei carabinieri E incominciamo la nostra avventura Missione Qua noi abbiamo tutte le armature Abbiamo la mitraglia Abbiamo Abbiamo la pistola E anche il para Ok E noi intanto cominciamo la nostra missione Dovremmo andare Dobbiamo andare Per esercitarci A fare il carabiniere Cioè tipo per sparare Quindi Allora Dobbiamo andare in questo cappannone Dopo per Quando abbiamo finito Dobbiamo andare in quello giallo Allora Allora Qui ci sono Certi Dobbiamo sparare Tutti questi Dobbiamo prenderli Solo l'unica cosa Il problema è che Dobbiamo prenderli tutti Vabbè Sapete già come Funziona Ok Allora Incominciamo Io dovrei sparare Primo ammazzato Secondo anche Anche Il terzo Anche il quarto Anche il quinto La ricarichiamo E anche il sesto È andato Ok Adesso Rifacciamo Quello che abbiamo fatto Prima Adesso dovremo andare Nel cappannone giallo Come vedete E dobbiamo trovare Tipo degli assassini E dobbiamo Ucciderli Ok Già ne vediamo uno Sono immobili Però Sono da uccidere Quindi Ciao Bene 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 È ammazzato Poi qua ce ne due Facciamo Una E due Ammazzati Poi Qua ci sono i soldi Questo qui Abbiamo sbagliato Un Abbiamo sbagliato A fare una cosa Ok Stavamo Uccidendo Quello là Quindi Poi ce n'era uno Anche qua Avevo visto Sì Due Alzo Che uno Ammazzato E' ammazzato Non riusciamo a uscire bene Acqua non si esce Non riusciamo a uscire Aiuto Perché Non riusciamo a uscire Aiuto Non riusciamo a uscire Aiuto Non so Non so Non riusciamo Ok Siamo riusciti a uscire Ricarichiamo Ecco Vediamo Che ci sono E' finito I colpi E facciamo Ok Ok E per oggi Abbiamo finito Il nostro video Ci vediamo Al prossimo video Di Roblox Ciao Ciao